amici ben trovati una nuova puntata di perfette sconosciute ma chi c'è qui ciao da Ivan Cattaneo questo cambio occhiale non occhiale lo trovo molto interessante la mia età la mia età per leggere da vicino e per leggere da vicino la musica dei giovani dei giovanissimi oggi ragazzi maneskin con torna a casa per me c'è lessi dopo torna a casa x factor però torna a casa io tu l'hai mai sentita no non ho mai sentito nemmeno io magari sì non so se il pezzo di x factor io stavo nella casa no 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 questa è nuova questa è una cosa nuova allora ovviamente le regole quali sono che mettete un like se il video vi è piaciuto che vi iscrivete al canale che cliccate il campanellino per ricevere sempre le notifiche noi alle 11 si pubblica sempre un video dal lunedì al 20 allora sono molto curioso hai seguito i maneskin nella loro partenza allora quando loro hanno fatto la cosa la vittoria nel che non hanno vinto ha vinto l'altro io ero nella casa dove loro stavano e ho fatto con tutti gli influencer queste cose qua dare un giudizio a loro eccetera insomma li avevo votati come preferiti invece ha vinto quell'altro che ha la voce un po' la cantante lirica allora non abbiamo ovviamente alcun pregiudizio questo ci tiriamo a dirlo quindi torna a casa maneskin andiamo a vedere di che si è morto cammino per la mia città ed il vento soffia forte mi sono lasciato tutto indietro il sole all'orizzonte vedo le case da lontano non chiuso le porte ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse e mi ha raccolto da per terra coperto di spine coi morsi di mille serpenti fermo per le spire non ha ascoltato quei bastardi e loro maledire con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto lì c'è le sue meraviglie il cappellaio ma cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta restiamo un po' di tempo ancora tanto non c'è fretta che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detto perché la vita senza te non può essere perfetta quindi Marlena torna a casa il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare quindi Marlena torna a casa il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire Ivan? ma ero partito con dei pregiudizi perché era una ballata e sei partito male ma possiamo avere i pregiudizi? non dobbiamo no no pensavo una cosa più rock invece una ballata che mi ricorda allora la voce mi ricorda una donna mi sembra una cantautrice degli anni 70 mi ricorda Ivan Graziani anche Ivan Graziani è vero un modo di interpretare così e anche non me ne vogliano in un certo modo anche un po' influenzato da De Andrè mi ricorda moltissimo quel mondo lì no? e poi il tipo di voce che lui ha che non è perfetto non mi piace come canta in quel modo però si rispecchia un po' i cantautori degli anni 70 fa un po' il verso il testo è carino tu hai capito di che si chi ce l'ha cappellaio matto allora cammino per la mia città il vento soffia forte mi sono lasciato tutto indietro il sole all'orizzonte si già qui era molto banale poi invece andando avanti c'ha delle immagini vedo le case da lontano si il cappellaio matto l'alice le cose per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine quindi evidentemente Marlena la ragazza di cui parla è stata la sua che poi già Marlena ecco già hanno cercato riferimento questo nome un po' tedesco eh Marlena si un po' si si perché se la chiamavano Sara ecco Sara ecco diventava un po' esatto con i morsi di mille serpenti fermo per le spire non ha ascoltato quei bastardi il loro maledire non sappiamo di chi si parli chiedo scusa a partire una pubblicità che non doveva partire comunque no è interessante è interessante niente di nuovo è un riferimento molto al passato degli anni 70 la forza devo dire la forza dei maneskin comunque forse ascoltando anche questa cosa non è la musica è l'immagine ma non li vedi qua è soltanto la canzone si no no però già già così valgono qualcosa io vocalmente ho dei problemi per esempio si vocalmente non mi piace molto lui come non gli do credibilità se vuoi cantarmi un testo con un certo tipo di profondità quindi con anche dei riferimenti che possono essere presi da Alice con un discorso dove mi parli di spire di serpenti di un paese che ti ha chiuso le porte cioè mi fai mi fai pensare che ci sia stato un complotto nei confronti di lui e di lei di lei che lo ha raccolto che l'ha salvato da per terra vuol dire che tu sei una persona che ti trova un vissuto impressionante per potermelo cantare devi essere per l'appunto le andrè devi essere una persona che mi fa una canzone politicizzata che mi da una profondità a tutto questo contesto il mio concetto lui la butto un po' via si la butto un po' via poi il concetto sulla credibilità che diciamo molte volte le canzoni giuste sono sulle bocche sbagliate e viceversa no? non posso fare i nomi chiaramente ma alcuni che cantano delle canzoni molto giuste però non sono personaggi magari credibili eccetera in questo caso anche perché è un testo molto molto importante tutto sommato però loro hanno tutto un background un po' di c'è una parte giovanile in tutto questo vedi Iva Graziani per esempio abbiamo un po' identificato come sinonimo vocale di questa canzone ma l'avrebbe cantata con un tipo di probabilmente di sensazione di sentimento diverso io lo trovo molto più intento a cantarla bene che non a farmi capire sì è vero è vero non ha secondo me non è la loro forza la ballata in mani che sono più forti nelle cose rovi vediamo magari c'è un secondo momento andiamo a vedere che succede il cielo piano piano qua diventa trasparente il sole illumina le debolezze della gente una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente col sangue sulle mani scalerò tutte le vette voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe perché anche gli angeli appoltiamo paura della morte che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta da questa terra ferma perché ormai la sento stretta pieni ero piede perché oggi sarò la tempesta c'è un tipo di voce molto infantile e io quello che dico che non poi non è un mio modo di pensare non è non è una cosa negativa però canta troppo come parla cioè per intenderci sono d'accordo Mario Lavezzi canta come parla Ruggeri canta come parla però può essere una cosa anche molto interessante stato un po' strascinato di cantare posso dire qualcosa sull'arrangiamento di questa canzone parliamo di una band di ventenni con riferimenti che sono musicali anni 90 più o meno loro è un po' banale l'arrangiamento devo dire c'è questo bordo del rullante questo rimshot con questa quantità industriale di reverbero tirato fuorissimo molto fuori dal mix quindi è molto presente e mi dà veramente l'idea della canzone degli anni 80 sì ma poi secondo me penalizza anche la canzone perché se avessero fatto qualcosa di più di più moderno a me manca il rock mi manca completamente il rock e mi manca un elemento di fascino nell'arrangiamento che mi faccia capire che quello che sto ascoltando è una band di ventenni sì esatto e poi anche il modo di cantare secondo me diventa con il tipo di arrangiamento diventa una cantilena monotona non è interessante sì devo dire seconda strofa e secondo ritornello non mi hanno aggiunto niente hanno costruito in più no ce ne sono 400.000 così cioè non arriva non arriva per cantare una cosa così avrebbe dovuto avere una voce molto più interessante interessante nel senso che la cambia ogni volta e invece proprio è volutamente cantilenosa proprio anche l'arrangiamento deve dire estremamente prevedibile no l'arrangiamento non è un bel arrangiamento adesso che entra tutta la band a full band devo dire che è molto prevedibile no l'arrangiamento è troppo prevedibile andiamo avanti questo è un singolo e il freddo quasi fa sentire quindi Marlana torna a casa che non voglio più prima di te ero solo un pazzo la lascia che ti racconti avevo un'ascia che la scuolcita è partito dal momento Negramaro? sì anche è partito dal momento Negramaro? sì ma appunto però appunto non appunto non c'entra niente con la pezzo di prima cioè un po' mi diceva ma perché questa cosa c'è un'altra cosa che non comprendo normalmente tecnicamente quando registri un brano da un punto di vista di arrangiamento raddoppi le voci registri due volte la stessa cosa che fa la voce e la registri due volte perché dà un'enfasi maggiore questo lo fanno nella strofa non lo fanno nel ritornello il ritornello lo lasciano ad una voce sola e lo svuotano in realtà il ritornello è il momento in cui tu metti tutta la cavalleria praticamente certo tutto quello che hai fai crescere invece in realtà in questo momento sia nel primo che nel secondo ritornello c'è un senso di vuoto sono curioso di sentire questo momento negramaro no ma non sono interessanti speravo speravo che i riferimenti speravo che i riferimenti già i negramaro a me non piacciono la verità io speravo che i riferimenti di questa band a quello che hai visto X Factor fossero i Red Hot Chili Peppers non i negramaro sì evidentemente no andiamo a sentire tagli sui polsi oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere questa città si affaccerà quando ci vedrà giungere ero in vivo tra l'essere vittime essere giudice era un vito che porta la luce dentro le tenebre e ti libera tra queste canene splendenti e lucide di il dubbio mio se fossero morti oppure di nascere quindi Marlena torna a casa che l'ho scusate allora no io devo fare io sono rimasto veramente male una parte potevano tranquillamente togliere dalla canzone una cosa in generale che non c'entra però non ho mai amato le canzoni le chiamo le operette nel senso che prima c'è una cosa poi arriva un'altra cosa rock poi cambia il tempo tipo Bohemia Rhapsody eh? tipo Bohemia Rhapsody sì ecco però quella è bella però è bella però eh sì parlavamo prima quando a me piace dei Queen personalmente a me piace sono fantastici mi piace una costruzione della canzone anche originale mi piace questa però però questa cosa che è un po' anche Progressi perché il modo di Progressi entravano in un modo poi andavano nell'altro io le chiamavo i patchwork le cose a me però personalmente non piacciono queste forme a me piace la canzone che comincia in un modo ed è quella ed è quella fino alla fine perché che non mi porta in una allora io ho sempre detto se devi far cambiare il ritmo il tempo la cosa la consistenza fai un'altra canzone cioè i Beatles non hanno mai fatto dei cambiamenti delle cose sebbene fossero talmente fantasiosi e dopo nel momento più particolare sì però allora qui veramente io ho sempre l'idea di non ascoltare una band di ventenni no è vecchio i riferimenti di questa band sono dei riferimenti vecchi ma non siamo non è musica derivativa no cioè non parliamo di io volutamente voglio riportarti in auge voglio avere un'ambientazione che è anni 70 anni 60 anni 80 volutamente i giornalisti fanno musica derivativa fanno un pop derivativo degli anni 80 ma è un esercizio di stile certo questo non è un esercizio di stile qui trovo l'assenza di stile no è proprio vecchio vecchio e poi questi questi insert li chiamo che non c'entrano niente cioè l'insert rock in una ballata così posso dire che non bisogna necessariamente per sentirsi o definirsi moderni utilizzare degli elementi fatti male del rap cioè basta anche questo modo di cantare ritmato così si può ritornare ogni tanto a una melodia fatta bene con gli accenti giusti con le parole con la giusta enfasi su delle parole che siano comprensibili e scandite uno dei problemi per esempio che ho sempre notato a X Factor è che non capivo una parola di quello che cantasse questo ragazzo infatti no assolutamente ma la cosa principale è questo è un consiglio che io do ai giovani che fanno musica allora prendere le esperienze dal passato però portarle a una forma compositiva molto molto semplice molto compatta molto sintetica e dare nell'arrangiamento nel modo di cantare qualcosa di nuovo né bello né brutto unico che nessuno ha mai sentito originale particolare qualcosa di unico che definisce il tuo suono tu riesci a capire qual è il suono dei mali e poi il sound parlavamo nelle scorse volte della plasticone cioè dare un sound riconoscibilissimo questo tipo di band così mi dispiace non è un sound riconoscibilissimo è un arrangiamento vorrei ma non posso anni 70 ma di quelli più ma neanche ma neanche poi cozza moltissimo con la loro immagine che la loro immagine è strepitosa anche lì l'immagine è un patchwork di cose anni 70 di look alla Bowie alla Mick Jagger mescolati insieme io sono convinto che il look venga dopo l'artista sì no ma senz'altro qui mi manca l'artista andiamoci a sentire gli ultimi 47 secondi di questa canzone quasi fa sentire quindi Marlana torna a casa che non voglio più aspettare quindi Marlana torna a casa che il predo quasi fa sentire quindi Marlana torna a casa che non voglio più sparire quindi Marlana torna a casa che freddo qua quindi Marlana sembra lì Marlana questa è una cosa una furbata bella quindi Marlana e lì Marlana ok questo è torna a casa dei Maneskin allora è un po' una canzone di Marinella di De Andrè tararina cioè è bullitamente poi anche c'è Queen di Marlène che fa Lili Marlène è anche bella questa cosa questa assonanza però è una canzone di Marinella non riuscita secondo me andiamo in modo l'eleganza ecco De Andrè la canzone di Marinella non interrompeva con è una canzone di Marinella ma perché Marinella no questa di Marinella è chiaro ognuno è figlio è figlio dei propri tempi e quindi i riferimenti magari sono alti però io veramente non l'ho trovato un io mi aspetto che il pubblico abbia sempre la pretesa di voler ascoltare qualcosa che sposta l'asticello un minimo non sempre un qualcosa che si tiene dentro alcuni canoni questi canoni che sono gli stessi cioè un artista che faceva rock nei primi anni 90 italiano faceva questo tipo di arrangiamento forse questo tipo di canzone da sono passati però 25 anni e mi aspetto altro da chi ne ha 20 da chi ne ha 20 mi aspetto delle cose nuove perché i riferimenti è tutto resettato per esempio c'è questo qui che è stato molto criticato si chiama Young Signorino che fa queste cose cioè chiaramente sono cose molto buffe però era una cosa nuova perché quando l'ho sentito ho detto non è neanche rap è una cosa asturda mi ricordava delle cose di Lori Anderson a un certo punto perché chiedo scusa chiedo scusa o delle cose alla Yoko Ono quando fa le performance all'arte moderna di New York al Mama quando fa imita i vocalizzi o imita gli orgasmi però ho detto ma Young Signorino benvenga è una cosa per dire non è bello non brutto però è una cosa nuova unica allora va benvenga ecco da un ragazzino mi aspetto delle cose nuove dammi un voto Ivan un voto no 5 e ragazzi anch'io voglio essere generoso e lasciare anche un 5 date anche voi i voti naturalmente nella sezione commenti un like al video se vi è piaciuto ma comunque nel dubbio voi buttatelo lì lo stesso tanto non costa niente veramente a portata di click a portata di click c'è il tasto iscriviti per seguire il nostro canale e poi anche la campanellina naturalmente per avere sempre gli aggiornamenti su tutto quello che viene pubblicato da me e da Ivan ciao grazie Ivan un grande ciao ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti